Siamo al Teatro Garbatella con Michelangelo Nari, protagonista e non solo di The Toxic Avenger. Ecco qua che lo inquadriamo. Allora, un musical, beh, che non diciamo un po' particolare, dai, anche... Dicelo tu. Sì, sì, è un musical particolare, un musical in cui l'eroe non è un eroe comune, è un eroe che è un nerd, che subisce un atto di bullismo, viene buttato in una montagna dei rifiuti tossici e ne esce un tantino cambiato, fisicamente e anche come indole. Senti, tutto deriva da un film, no? Del 1984, un film della troma, un po' trash, un po' come... Esatto, deriva da questo film dell'84, di Kaufman, poi è stato fatto un musical nel 2008 e questa è la prima volta in cui lo spettacolo viene proposto non in lingua inglese e quindi la prima versione italiana, abbiamo fatto l'adattamento e è stato bello vedere che anche coloro che sono fan del film, quando sono venuti a vederci a gennaio, hanno apprezzato anche i nostri piccoli cambiamenti. Tu tra l'altro sei anche, appunto, hai curato anche l'adattamento in italiano, oltre a interpretare il protagonista. Esatto, esatto, ho fatto gli adattamenti delle canzoni, gli adattamenti invece dei testi recitati sono del regista, Nicolas Musicco, ed è stata anche una sfida perché bisognava rendere quest'ironia, che non è un'ironia sempre politically correct, anche in italiano, e quindi ci sono un po' di... anche di aggiornamenti, no? Perché rispetto al musical del 2008 sono successe tante cose. Si parla di Greta Thunberg, si parla di Trump, si parla della società di oggi, insomma. Quindi è un adattamento non solo di lingua ma anche, diciamo, di attualità. L'avete un po' contemporaneizzato, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Proprio perché le persone si sentono nel New Jersey anche oggi. Senti, ma com'è questo vendicatore tossico? È fantastico, io mi diverto un sacco a fare questo spettacolo. Quando respiro, perché ho questa maschera fatta da Michela Aquilanti, meravigliosa, ho un occhio che cade, quindi è un po' difficile respirare, però è divertentissimo. E Toxie è un vendicatore che vuole poi il bene del pianeta e nel perseguire questo cerca anche di conquistare il cuore della sua amata, di Sara. Perché c'è anche l'amore. L'amore c'è sempre, è un musical senza amore, non è un musical, insomma. Senti, sai che uscirà prestissimo il quarto film, no, il quinto film della saga, perché poi è diventata una saga. Esatto, esatto, lo so e so che c'è Peter Dinklage, quindi insomma essere al pari del protagonista del trono di spade, per dirne uno, no, è molto bello. E è bello perché questo musical, al di là del nostro spettacolo, ma questa storia merita di essere conosciuta perché ha veramente poi tante storie e un messaggio di ambientalismo e di bene del pianeta che comunque è sempre importante ricordare. E anche il fatto che non sempre chi sembra un mostro poi evidentemente insomma poi lo è sul serio. Esatto, non a caso Sara si innamora all'inizio di Toxi, Sara è una bibliotecaria non vedente, quindi all'inizio non ha diciamo lo spiazzamento che le persone hanno quando vedono l'aspetto di Toxi, ma poi si innamora di quello che c'è e quindi una volta che conosce quello che c'è dentro, poi quello che c'è fuori non è più importante. Grazie mille, so che in questi casi si dice merda e quindi merda. Merdissima, merdissima, vi aspettiamo a teatro, 8, 9, 10, Teatro Garbatella, ciao. E un saluto grandissimo agli amici di Spettacolo Mania, grazie di questa intervista e state sempre con noi a teatro, il teatro ha bisogno di voi, ciao.